Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa della chiusura dello svincolo di Ginestra Fiorentina in entrata e in uscita a causa dei lavori si registrano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. In A1 sempre a causa dei lavori chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni fino alle 18 di domani. E sempre a causa dei lavori anche in A11 chiuso lo svincolo di Chiesino Uzzanese in entrata provenendo da Firenze fino alle 18 del 27 novembre. Sulla statale un'orella scambio di carreggiata tra Scarlino e Venturina in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Follonica Est in entrata e in uscita in direzione nord. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!